Oggi ragazzi vi insegno a costruire una farm di buche in 30 secondi, venite insieme a me. Questi sono tutti gli oggetti che ci servono. Iniziamo scavando un buco lungo 2 e alto 2, facciamo una piccola scaletta per scendere più facilmente, poi piazziamo tre scale, una, due e tre, la quarta la mettiamo qui e la quinta la mettiamo qui così al contrario, dall'interno. Poi mettiamo una grande cesta appena sotto queste due scale e ci attacchiamo direttamente un hopper. Mettiamo dell'acqua su questo blocco qui, prendiamo le nostre due mucche che portiamo all'interno del buco aiutandoci con il fieno e mettiamo un muro qui per bloccare le mucche aiutandoci con un blocco al lato. Ora ci basterà farle accoppiare utilizzando il cielo e loro morendo con entity cramming ci daranno tutti i loro drop all'interno della cesta.